Musica Ciao a tutti ragazzi guardate il black e oggi siamo in questo nuovo video qui negli arena pvp di bad lion per fare qualche pvp contro qualcuno sostanzialmente cosa si viene a fare se non negli arena pvp Quindi siamo qui vorrei provare con voi la modalità skywars perchè è una modalità che hanno messo da poco e dovrebbe essere particolare soltanto che io in questa modalità faccio veramente parecchi fail e infatti si può vedere pure dal mio elo perchè no qui mi scordo sempre da Ho vinto ok già che ci stiamo ce lo mettiamo a posto immediatamente in modo tale da non avere più problemi ce lo facciamo proprio qui il problema che io non ho mai capito poi da lì perchè devo sempre fare slash hub Se io voglio tornare normalmente perchè non mi fa tornare normalmente comunque adesso ecco manco posso usare gli oggetti mi sembra giusto facciamo lo skywars e abbiamo subito la roba messa E dovremo poi io vedi sono lento a mettere blocchi ora io adesso sto andando pure particolarmente veloce attenzione però di mio Oh si porcazzo mi fa cadere dammazzio Gappolo per andarci io lo Eh Uh ok Questa va andare particolarmente bene ne sono felice stiamo recuperando l'elo ed è una nota positiva Ok Ehm si dovremmo andare di là Minchia che isolone Il problema degli skywars è anche che se stai troppo nella tua isola perchè quando uno arriva all'isola centrale va tipo a camper non fa arrivare l'altro sull'isola Se l'altro non arriva sull'isola si crea un problema di logica Vedete non mi piazza i blocchi Oh Ok Ok il problema è che poi dopo un po' non lo so perchè ho mangiato la gapple perchè forse ci voglio andare iolo però lui manco sarà arrivato Tempo che arrivo là Ho fatto la cazzata forse no ha cheppolato pure lui ho fatto benissimo Oh Questi però sono forti Questi sono tanto tanto forti questi ci fanno proprio di tattica Quelli bravi tipo questo vedi Usano ste cazzo di palline E sono proprio tattici Cioè Vedi Poi mi fa fa sti voli Che Dio santo Eh quanto c'è va questo diolo Manco troppo Però sono tattici perchè Veramente Ti fanno sclerare E' per questo che io odio gli skywars Proprio come modalità pure da giocarla normalmente Che l'altro è la por Io la odio perchè stare così sospesi nel vuoto Ti prendono ansia A me manco mi si piazzano ste cristo di blocchi Vado lento a piazzare Mi prende l'ansia Mi prende totalmente l'ansia Quindi Già è tanto se vi sto portando questo video Per farvi vedere la nuova modalità Però non vi aspettate altro No sempre questo no 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 Poi a farti fottere Vai a farti totalmente fottere Ti copio pure le tecniche mo Stronzo di merda Si chiama ping Su chiamelo Si Ha 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 Io ho inculato l'elo Quindi questo dovrebbe essere più o meno perchè Ora se mi ritrovo contro di lui Ah ok dicevo infatti Basta pure sta mappa Mi sta a rompere Io non sono Guarda non mi si piazza nei blocchi Guarda 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 Questo è tutto tempo perso Perchè l'altro poi Perchè l'altro poi se va più veloce Arriva prima di te sull'isola E te te la prendi riccamente Però ho capito la tattica Grazie a quello Ho capito la tattica Se tu usi le palline così Non è brutta come tattica Quello è un genietto Cristo Beh Ah Vedete Sta cosa mi fa imbestialire però Ok Ok su Forza Adesso vai Adesso magari se Non perdo tempo a piazzare blocchi Però lo perdo ugualmente Perchè vedete Io sono proprio io Che perdo tempo a piazzare blocchi Quello già mi sarà dietro Ok Geffola Andiamoci Addormentato O non è arrivato Se te gli le mandi diagonalmente Tieni vieni bro Vieni Ti ho fatta la scaletta Vienici Forello Questa è stata carina Questo mi è piaciuto Bella tattica Adesso Quindi Sto capendo le tattiche di gioco Adesso però se io Devo trovare la tattica Invece se voi avete qualche tattica Uno mi aveva detto Se clicchi tutte e due I tasti insieme del mouse Vai più veloce a piazzare A quanto pare è vero Se voi avete qualche altra tattica Più efficace Forse Quello per piazzare blocchi Ditemela Perché non fa mai male Le tattiche Ora Geppolo Io geppolo sempre qua E vi spiego il perché Se qualcuno se lo chiede Perché Questo Questo Perché Vedi Lui non ha geppolato Oltre ad averci cuori Se prendi danni da caduta Per qualsiasi cosa Dacci tua Ma Cristo Dio C'aveva pure 5 cuori e mezzo Ma come No ok Queste cose io non me le so spiegare Vabbè facciamoci un MCSG Per calmarci Questo c'ha pure il voco elo Quindi in tira ci lo dovremmo pure riuscire a fare Se non ce lo riusciamo a fare Sono proprio io che sono Ez Quindi questa era più o meno la modella di Skywars Non voglio far durare questo video troppo Ne l'ho fatto anche per variare Perché un ragazzo mi ha chiesto di variare Dato che Si stava iniziando a stancare Di soliti SG Quindi l'ho accontentato Basta che voi fate una richiesta Io bene o male vi riesco sempre ad accontentare Perché Vi voglio bene Se no poi mi dispiace Questo flintessip è stato totalmente a caso Ok perfetto Quindi Ora Tasti a caso premuti Perfetto Poi L'ho preso infatti Dicevo perché non connettevano gli shot Eeeh Se tu hai cheppolato Io t'ho lasciato cheppolare E tu lasci cheppolare me Esatto Però quel hit non mi era piaciuto Ora ti becchio un po' di boss spam Oh oh Wey Wey Oh Eh Mi è piaciuto Però lui c'ha ancora tutto il flintessilo Quindi adesso sicuramente non lo piazza Oh Oh Mi arrivano gli Oh Dio L'ho preso Ok ok preciso 1400 1400 1400 preciso Io direi Ce ne facciamo un'ultima Non di Skywars Perché Skywars ne va abbastanza Sempre lui Questo vuole la rivincita Forza bro Fammi vedere quanto sei forte Dai bro Qua la rivincita Ti sento che vuoi la rivincita Ti sento che vuoi la rivincita Però Ti sento Ti sento Ti sento Ti sento Ti sento in corpo Però non riesci ad averla rivincita Eh bro Eh Spero che questo video vi sia piaciuto Se è così Fossemi da lasciare un like Un commento Ci vediamo domani Con un prossimo video Da Red Black È tutto Bella raga Grazie a tutti Grazie a tutti.